Uomo, cito visto te uccidere mostro, noi amici? Certo, possiamo essere amici. Cito felice che umano è forte, umano ha ucciso mostro senza aiuto, mostro forte, tu più forte! Cito felice che umano ha ucciso mostro, mostro ha fatto male a Cito e famiglia di Cito! Beh, ora non potrà più farvi del male, Cito. No, molti altri mostri, senza fine. Cito uccide mostro, altro mostro arriva, Cito uccide mostro di nuovo, altro mostro arriva di nuovo. Mostri mai fine, aiuta Cito a finire mostri? Certo. Cito felice che tu aiuta! Tu segue Cito, Cito mostra cosa, cosa che aiuta a uccidere mostri. A tutti gli ospiti! In caso di emergenza, all'uscita della casa dei rettili sono disponibili gli antidoti. Qui! Qui! Qua male! Per sempre, vi ricaveremo qualcosa di buono. Te ne pentirai. Per sempre, vi ricaveremo qualcosa di buono. Questa! 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 Questa casa. Questa famiglia. No paura. Loro non fanno male te. Noi amici, quindi loro amici. Come mai sei stato cresciuto da questi gorilla? Cito molto piccolo quando prima famiglia muore. Prima famiglia assomiglia a Cito. Cito non muore. Cammina e cammina. Trova zoo, trova nuova famiglia. Nuova famiglia aiuta Cito. Dà cibo a Cito. Dà acqua. Protegge Cito. Ora Cito grande e grosso e aiuta famiglia contro mostri. Hai una bella famigliola, Cito. Tu dice cose carine. Tu piace a Cito. Adesso tu aiuta Cito. Famiglia in pericolo. Nascosta qui per mostri. Solo qui sicuro. Qui no cibo. Qui no acqua. Cito esce per aiutare famiglia. Mostro prova a uccidere Cito. Cito uccide molti mostri. Altri mostri arrivano. Mai fine. Cito ha paura che mostro fa male a famiglia. Va bene Cito. Proteggeremo la tua famiglia. Tu piace a Cito. Cito ha storia. Storia aiuta contro mostri. Cito mangia con famiglia. Uomo rugoso viene dentro casa. Uomo rugoso ferito. Cito prova ad aiutare. Uomo rugoso dice che lui fa mostri. Cito furioso contro uomo rugoso. Mostri fanno male a famiglia. Uomo rugoso dispiaciuto che mostri fanno male a famiglia. Lui dà a Cito cosa scintillante. Dice che può aiutare Cito a fermare mostri. Cito cerca di aiutare ancora, ma uomo rugoso muore. Cito sotterra uomo rugoso, ma tiene cosa... scintillante. Ora Cito da te cosa scintillante. Tu aiuta Cito. 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 Dottor Darren McDermott. Ultimo sopravvissuto di cui si abbia notizia nell'impianto di clonazione di Safari Adventure. Questa è la mia ottima registrazione. Ho fatto una cosa orribile. La cosa che ho creato, che ho chiamato Gator Clue, va distrutta, non può essere addestrata, né controllata. Non avevo mai visto una feroce simile. E adesso il replicatore della nuca c'è, è fuori controllo, li sta producendo a getto continuo. Ti prego, chiunque tu sia, trova il mio codice, o quello del dottor Hain. Spegni la macchina copiatrice prima che... Che sia troppo tardi. E se questo nastro dovesse arrivare dal dottor Hain, di... di perdonarmi. Uomo morto ha cose importanti. Si direbbe che i Gator Clue, i mostri, vengano da un impianto di clonazione di animali da qualche parte sotto Safari Adventure. Cosa scintillante, utile per te? Sì, è stata molto utile. Ora devo solo trovare l'impianto di clonazione. Cito, hai idea! Tanto tempo fa, Cito vede Uomo Rugoso venire da Grande Casa Triangolo. Tu vai a Grande Casa Triangolo. Tu trova impianto di clonazione. Tu ferma mostri. Cito, viene con te. Cito, aiuta! Puoi fare in modo che la tua famiglia ci aiuti. Chris, grande e forte. Chris aiuta te e Cito. No, 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 no. No, 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 no Grazie a tutti.